If I am crazy Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dani e oggi siamo con questo nuovo video sulla vanilla, perfetto Oggi sono in comune di Omega, che è qua che sta facendo legna Buonasera Ehm, oggi costiamo la casa Ragazzi, ho preso un po' di materiali off camera per farla a casa, ho avuto intenzione di farla con la diarite levigata, il granito levigato e la diarite levigata Poi, materiali che magari non si usano Esatto, un po' di materiali che si usano poco, quindi ho voluto dire, vabbè, dato che non si usano mai, usiamoli noi, no? Magari poi facciamo la farm dei concrete, cioè il calcio sfrutto Esatto, ci facciamo una bella, esatto, una bella casetta Che è un po' più lucida, poi vedremo Poi vedremo più avanti quando avremo più cose Allora, intanto direi che Allora, direi che per questa volta la casetta ve la faccio vedere in timelapse Infatti ci vediamo alla fine quando l'abbiamo finita Ciao, buona visione 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 Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. 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 a tutti.